e ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla sky e allora e non so se il video non so se il video si vede in una risoluzione decente perché dagli scorsi episodi vi ricorderete se non s'altro che c'erano delle barre nere ai lati non so se c'è ancora spera di aspetta mettiamo nel distance 6 o le guarda un po che bellino ma insomma non è vero allora il secchio d'acqua non credo ci serva molto più che altro danno il cibo io andrei qui oppure lì sapete no vabbè lì ci devo andare quando sono più o meno lì e quando è esplorato cos'è quella roba non ci sono le robe al contrario ma che stiamo scherzando noi è una cosa impossibile ok iniziamo a distruggere questi spawner di creeper potrebbero risultare fatali allora vediamo un po ferro e oro come di consueto tutte le chest di queste isole fatte così hanno sempre avuto ferro e oro e così anche questa piaceva la cosa facciamo una cosa di questo tipo illuminiamo anche il ponte dietro perché potrebbe lo spawnare delle brutte persone voglio entrare e non posso entrare ok ok rompiamo questo in che modalità sono i misi quindi possono spawnare quando guardiamo oh attenzione carne cotta 10 e 8 non mi lamento vediamo un po se c'è altro ma si scende scendendo se c'è qualcosa c'è uno spawner di streghe ovviamente io una end il me la porta a canzzi tutti no due sì due due allora qui c'è un po di pozioni buone night vision jump boost e instant help non mi lamento affatto prendo anche lo green stand l'alambicco quindi ci sono dei blocchi non mi servono un letto non so a quale scopo un blocco di carbone e un altro blocco di carbone libri su libri ma c'è un'altra scala che scende ancora cosa c'è sono dei blocchi di smeraldo che mi prendo comunque anche se non sono delle queste ceste eh non ne ho capito il senso di quella di quelle peste oh mio dio non ti baggare usmeraldi e diamanti madonna mia questi smontiamoli almeno si impilano vabbè facciamo come si sente ok buono questa non l'ho capito ma queste cose possono essere ah non c'è niente scherzavo scherzavo allora penso che anche qui non ci sarà niente infatti mentre di qua allora prendiamo le balle di fieno perchè sono del cibo gratis e quindi va bene cioè noi possiamo vabbè faccio a casa ehm gold block creeper head e bottiglie dell'acqua tant'agione blocchi di redstone anche se non ne ho capito quanto motivo redstone bottoni ma qui sotto non c'è niente così utile eeeh vabbè io ho preso tutto bene o male qualcosa servirà allora a questo punto saliamo cosa c'è c'ho uno spawner di crepe perchè distruggo dei blocchi di smeralda che non posso prendere perchè sopra c'è il flower pot non voglio non a chi se ne frega il flower pot lo piazziamo qui ehm ok blocco di carbone che penso sia stato tipo il cammino con me si era era tipo il cammino ok qui c'è della roba ma saliamo ancora perchè c'è uno spawner di crepe non c'è non c'è niente rigenerazione questa è buona non c'è niente non c'è niente torce torce mi servono eeeh basta delusione probabilmente si io non ne ho capito tanto il senso di questa casa adesso dovrei aver controllato tutte le casse quindi non ci dovrebbe essere più niente delusione delusione madonna e qua invece ah c'è semplicemente una finestra per guardare eeeh boh non non ho capito 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 per vedere se c'è qualcosa almeno sopra e che non sia una completa delusione non mi sto convincendo sempre di più che sia una completa delusione è una completa ah invece no ooooh la blu stained clay finalmente c'è c'era qualcosa in realtà la blu stained clay eccola qua con dei diamanti madonna ci ho messo per trovarti eh bastarda eeeh vabbè noi prendiamo queste balle di fiera e torniamo a casa questo da qualche parte qui ok no è bruttissimo vabbè che cazzo se ne prega facciamo così queste spariamocle eeeh poi questa la scomponiamo allora cos'è che non mi serve essenzialmente allora possiamo ricomporre questo vabbè innanzitutto craftiamo quello che volevo craftare cioè i panini 24 ok questa la possiamo mettere ok ragazzi sono al monumento per piazzare la blu stained clay blu si blu fatto e anche oggi è stato portato a casa un blocco del momento da quanto sto registrando 19 minuti tanto taglio allora ho rimesso un po' a posto la chest come potete vedere mi sono svuotato l'inventario eeeh cos'altro vabbè questi sono praticamente finiti di portare i visti dietro non mi serve una handling più quindi possiamo metterla qua cos'altro mi serve mi serve prendere del link ma questo va bene mi serve per qua si ci serve avevo un'altra chest e nessuno me l'aveva ricordato madonna non mi ricordavo neanche di avere un'altra chest pensate un po' quanto sono stupido ragazzi troppo allora ma per questo video è tutto questo episodio è tutto io vi ringrazio per la visione e ciao a tutti